Quali sono i segni di convulsioni nei bambini? I segni di convulsioni nei bambini possono includere confusione, allucinazioni, menomazioni motorie, cambiamenti comportamentali, uno sguardo vuoto, gesti ripetitivi, strane sensazioni fisiche e comunicazione compromessa. Non tutti questi sintomi sono generalmente presenti durante il sequestro di un bambino e, in alcuni casi, i segni di convulsioni nei bambini passano inosservati mentre un bambino sembra comportarsi normalmente nonostante una disfunzione neurologica. I sintomi differiscono anche in base ai tipi di convulsioni che colpiscono i bambini. Esistono più di 20 diversi tipi di convulsioni e la maggior parte si sviluppa nella prima infanzia. Le convulsioni sono caratterizzate da normali scariche elettriche nel cervello. A seconda di dove si verificano questi scarichi, i segni di convulsioni nei bambini saranno diversi. Ad esempio, le crisi focali, che si verificano su un singolo lato del cervello, non interrompono la coscienza di un bambino, ma possono causare spasmi muscolari da lievi a gravi. Durante una crisi focale, un bambino può essere completamente sveglio e in grado di comunicare. I sintomi di convulsioni nei bambini sono a volte non riconosciuti. Ciò è particolarmente vero nei casi in cui i sintomi, come uno sguardo vuoto o una piccola confusione, durano solo per pochi secondi. Altri segni di convulsioni nei bambini, come le segnalazioni di un gusto o un odore particolare, possono essere trascurati o addirittura presunti essere dovuti a qualche altra spiegazione. A volte, i segni di convulsioni lievi nei bambini tendono a verificarsi durante il sonno di un bambino e, di conseguenza, spesso vengono facilmente persi dagli adulti. Sebbene un bambino possa sembrare che funzioni normalmente, in alcuni tipi di convulsioni possono verificarsi brevi disturbi nel cervello che durano da pochi secondi a diversi minuti. La prescrizione di farmaci è il trattamento più comune per le convulsioni nei bambini. In casi estremamente rari, la chirurgia può essere necessaria per correggere un'anomalia cerebrale quando si scopre che questo produce segni di convulsioni nei bambini. Con un trattamento adeguato, le convulsioni sono spesso controllabili e i bambini sono in grado di godere di una normale qualità della vita. Riconoscere i segni di convulsioni nei bambini è il primo passo per identificare un disturbo neurologico di base. Tuttavia, è necessaria una vasta visita medica prima di poter dare una diagnosi adeguata. Anche se potrebbe non essere possibile prevenire completamente le crisi epilettiche nei bambini, una diagnosi precoce delle convulsioni e l'impegno a trattarle possono ridurre significativamente l'impatto che i sequestri hanno sulla vita di un bambino.